Musica 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 Non passa Ui che è con il dador Musica 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 Sì, è stato il tuo qualità! Cosa? Si sono un ruot? Siamo in giro. Si è un ruot? Si sono due un ruot? Si è la loro parte di luar isa? Sì Rattaccia in giro Si è un ruot? Si è un ruot? Si è un ruot? e 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 cewe dia enggak 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 setau enggak setau permainan ini yang yang ketemu semalam iya kemarin oh pasti ada warna iya lalu pelajar kalau ini senyata Hmm nah... lihat di sini berpikirkan apa yang mau apa yang mau tinggal apa yang mau Saya tidak percaya sehingga no c'è il genere non c'è chi c'è non c'è che non c'è che non c'è oh wow oh wow oh wow has everyone placed their best? who lives? who died? who's music built their eyes? alright you filthy little congenerous, listen up it's time for round 1 match A let's see brain niente e'vendio c'è il monkey 1 1 si non si non si non si non si non si non Ahahahah. Mi ha mai avuto 3. Uh... Pecah. Takut, takut. Takut, takut Don't bother struggling. Okto, Bonecrusher, strike! Come on, let's get anything. Okto, 100 fist russi! No, you're already dead. What's that? Don't bother struggling. Don't bother struggling. Don't bother struggling. Don't bother struggling, you're already dead. Oh, I'm the only one. I got some damage. I have to kill you. Sì! Ahaha! Don't bother struggling. Punto Bonecrusher Strike! Punt! Zap! Punt! Chut! Punt! 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 Phantom channeling point! I can't move! Punt! 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 Pode! Punt! I? Punt! Puk! Punt! Punt! Punt... Punt! Okto, ortebreaker strike! Okto! Okto! Oh shambம! DahNo Amen! Oh shamb дост� ehhOh shamb è un bel maro ecco il maro, è un bel maro Sì! Il nostro vinto è... Kentshiro! Il nostro prossimo è attacchi. Il vinto del round ultimo va diventare in due team. La regola... ... e io... ... e io... ... e io... ... e io... You are a team now. You are now one side of a brutal two-on-two battle. Lirik dia. No count on me saving your life. Merta atas juga, Doh. Merta atas juga, Doh. Sure. Hey, you! Oh! And you can... Now it's showtime! The next fight begins... Begins! There's two. All right. Come on, come on. Come on, come on. We're coming to the jump. Ehi, we're coming. Okay, I'm coming. Ok, 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 ok. ohla sveglia grazie My nayamito è successo è iniziato è iniziato è iniziato i i i i i i i i è Hokto Shinkin, certo? è vero i ragazzi la gente non muo come quello da un'ottima martiale e ora ho potuto vedere le caratteristiche Hokto Shinkin con le mie ozze sai? ho matato un po' di persone che arrivano qui e ora ho saputo che è un'ottima questa è una cosa e come ballarti molte le giuste il controllo in una situazione l'idea vena è sei ora non è e invece è stato buono è vero ma Grazie. no 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 E' un po' di gioco E' un po' di gioco devo fare tutto silker il fatto silker non lo so e il venista è Kenshiro Kenshiro no 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 come si ha fatto tutto questo ok ok, il ragazzo prossimo è potente si può andare fuori si può andare fuori si è una si è una mazza ma che stagioni di è una la 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 è un' non è una volta si è un' 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 Gable Rebirth di Kali? Appare che in tutto! Ello oh 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 No, 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 no. Stagia! Oh mamma! Oh, pò è tutto! Stagia! 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 oh oh stagia oh 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 i oh oh i si 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 èощo Bilo che si può andare Non puoi Cosi che si è ancora più no 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 A presto! Voi! 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 Sì, non ciungi. Sì, non ciungi. ... ... E... che tra l'arindie? E tra l'arindie? Ui, ui! Ah, però parà l'arindie! ... ... ... ... ... Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Stai di vita! Oh oh va bene ho abbiamo il sei ah 7 7 8 8 la i voli a vare non serve un star bella bella hehehehehehehehe eheh ooooh eeeh uuuuuuh eeheh uuuh eeeh Sì, è così forte! Sì, è vero! Sì, è vero! e il giocatore è Kei Shiu Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì.